Nutrizione clinica e sistema sanitario nazionale, quali sono le criticità ancora oggi da risolvere e invece quali le eccellenze messe in campo finora? Sicuramente dal punto di vista delle criticità è il fatto che questa nutrizione clinica non è presente allo stesso livello nelle varie regioni italiane, sappiamo che in Italia vige un servizio sanitario regionale e quindi sono delle regioni virtuose che hanno applicato dei criteri di organizzazione molto importanti, molto validi, tra cui sempre la regione da cui provengo io, il Piemonte, in cui da moltissimi anni è presente una legge di istituzione di questo servizio, sono presenti molti servizi di dietitica e nutrizione clinica a livello regionale e quindi il problema è praticamente risolto. Nelle altre regioni è importante cercare di cominciare con una legge o un indirizzo che deve essere sicuramente a livello nazionale, dopodiché avere uno stimolo per cui le regioni recepiscano quello che a livello nazionale dovesse essere definito. In questa regione, centro d'eccellenza di cui ci ha parlato, che cosa avviene concretamente? Di quali servizi possono usufruire i pazienti rispetto ai residenti invece di altre regioni d'Italia? Nella nostra regione, tramite questa legge regionale che è ormai data da molti anni, il paziente viene preso in carico per tutte quelle che sono le esigenze, le problematiche della nutrizione clinica, che va dalla cura dell'obesità in tutte le sue forme alla nutrizione artificiale domiciliare di tutti i tipi, in tutte le patologie che la necessitano. E in questo campo il paziente viene gestito non solo in ospedale ma anche a livello domiciliare con la fornitura di tutti i prodotti, di tutte le cose che possono essere necessarie, compresa anche la presenza del personale sanitario, quindi medico dietistico e infermieristico, gratuitamente a livello regionale. Che cosa impedisce alle altre regioni di copiare questo modello? E questo mi piacerebbe saperlo anche a me, diciamo che abbiamo per anni cercato di far presente quelle che sono le nostre organizzazioni, le nostre eccellenze, ormai sono 30 anni che lavoriamo in rete per esempio perché noi abbiamo 14 servizi di dietetica sparsi nella regione e siamo tutti in rete per cui tutti fanno le stesse cose che fanno gli altri e questo vuol dire che ogni paziente della regione Piemonte avrà lo stesso trattamento sia che sia Torino, sia che sia Novara, sia che sia Cuneo e questa è una cosa che io ritengo estremamente importante. La stessa cosa dovrebbe succedere per i cittadini italiani in tutte le regioni italiane, cosa che appunto non succede.